Ciao a tutti da Vegitaliano, oggi come potete vedere e come dicono le televisioni quelle importanti, siamo in esterna e siamo nei giardini di Marco all'interno dell'oasi di Nipfa che si trova alle porte di Roma, Roma Sud. Oggi non vorrei presentare alcuna ricetta ma per la prima volta dal 92 vorrei dire quello che penso su un argomento che è attuale, inerente alla santa, tra virgolette, santa Pasqua che è domenica prossima. Il tema è l'agnello, per prima cosa vorrei dire che l'agnello, che cos'è l'agnello? Perché molti in città, sembra strano ma non lo sanno che cos'è, è un'offerta conad o al lidor, in realtà l'agnello è un cucciolo, è un cucciolo molto carino che non ha niente di meno carino di un cucciolo di cane e giocano allo stesso modo, si affezionano allo stesso modo, è molto bello, molto simpatico, allegro ed è un cucciolo che arriva fino ad un anno di vita. Dopodiché in questo periodo viene ucciso e portato sulle vostre tavole. Questa tradizione qui io direi che sarebbe il caso dopo duemila anni che terminasse per delle semplici ragioni. Innanzitutto mi rivolgo alle mamme, se voi vedete un qualsiasi documentario dove ci sia una pecora con il proprio cucciolo, con il proprio agnello, amore, sarà facile capirne la similitudine con il cucciolo di un uomo e con la propria madre, hanno lo stesso amore, non c'è niente di diverso come in tanti altri esempi come un gatto con i propri gattini e il cane con i propri canini. E insomma quello che volevo dire è che se vedi questo, se vedi che non c'è nulla di diverso, se vedi che questo potresti farlo vedere a un bambino ma non potresti portarlo al mattatoio, allora forse è il caso che di non nascondere una verità ma di evitarla, nel senso perché devo fare qualche cosa che il mio bambino non vorrebbe e non potrebbe vedere. Allora evitate, evitate perché la verità è sotto gli occhi di tutti, adulti e bambini. Allora se i bambini non possono vedere qualcosa non è perché è violento, è perché non si fa, non si fa e quindi è giusto che non lo facciate neanche voi. E poi un'altra considerazione, sono tre milioni e mezzo di agnelli che vengono uccisi ogni anno in Italia, e io direi che sono tanti, vengono uccisi in questo periodo. Un'altra considerazione è che Costantino I nel concilio di Nicea, disse che sconsigliava il sacrificio dell'agnello perché era una pratica ebraica e lui istituì la Pasqua nel 325 d.C. per rinforzare l'impero e quindi lui sconsigliava una pratica ebraica ma consigliava appunto una pratica cristiana che è quella di non uccidere, ok? E in un secondo luogo Benedetto XVI ha detto che in una sua omelia ha detto che l'agnello di Dio è il figlio di Dio, è Gesù, non è un cucciolo da uccidere, non porta la sua morte alla soluzione dei problemi del mondo, non è un sacrificio fatto a Dio, è un qualcosa anche di blasfemo perché il Tempio di Dio non è la tavola vostra, è la Chiesa. Per cui per una serie di ragioni non ha senso, soprattutto dopo duemila anni, sacrificare degli agnelli nella giornata della pace, è un'assurdità, è una cosa brutta, è una cosa che mi sentivo di dire dopo tanti anni e che soprattutto da vivo, cioè l'agnello non ha mai risolto i problemi del mondo, ma figuratevi da morto, quindi io scusate la pesantezza di questo video, ma in questa meraviglia della natura vi esorto veramente a praticare la pace, cioè a non uccidere o delegare qualcuno che lo faccia per a voi, come i macellai, e a nutrirvi di salute, di verdure, legumi, di fritti, quello che vi pare, tranne che i cuccioli degli animali. Poi qualcuno mi dirà, ma scusate, ma allora tutti questi macellai che fine faranno? Io non posso risolvere tutto, però vi posso dire una cosa, che fine hanno fatto gli sciamani? Sono diventati medici, che fine hanno fatto gli alchimisti? Sono diventati chimici, cioè ci si rinnova, sono problemi loro, ma non è che siccome c'è disoccupazione uno debba uccidere i cuccioli di un animale che non ha niente di diverso dai cuccioli del cane o del gatto, quindi dato che in Cina mangiano i cani e qua no, e qua troviamo orrendo, beh agli occhi miei orrendo anche mangiare i cuccioli di un agnello, non c'è nessuna differenza, spero di essere stato utile a qualcuno, vi saluto e alla prossima, ciao!